Domenica è partita la raccolta firme per chiedere chiarimenti al Sindaco, un Consiglio Comunale aperto, sulla possibilità di accogliere immigrati qui ad Airola. È di ieri la notizia che 15 immigrati arriveranno ad Airola. Qual è il vostro punto di vista? Il nostro punto di vista è che ad oggi il Sindaco ha sempre detto che non sapeva niente. All'improvviso, chissà, forse la paura di affrontare un Consiglio Comunale aperto gli ha fatto venire in mente che ci sono questi 15 immigrati. Dice che ha parlato ultimamente con il Prefetto, però mi sembra giusto che i cittadini vengano messi al corrente, ma non attraverso giornali o media o quant'altro. Vogliamo parlare, vogliamo confrontarci con il Sindaco. Qualcuno vi ha accusato di essere razzisti. Quali sono effettivamente le vostre preoccupazioni? Le nostre preoccupazioni sono, penso che come le mamme soprattutto, visto che la struttura dove devono essere ospitati questi immigrati sta a fianco a una scuola, un asilo, quindi i genitori è anche lecito che hanno delle preoccupazioni. Quindi dire che siamo dei razzisti insomma, vogliamo solamente essere tranquillizzati con una maggiore presenza di forze dell'ordine, visto che ad Airola abbiamo già tanti problemi quando riguarda incendi di macchine, bombe carte davanti ai portoni, immondizie su tutto il territorio. Con quattro vigili non so se riescono a salvaguardare anche quest'altra problematica che non è, diciamo, da sottovalutare. Dobbiamo creare, secondo me, delle condizioni ideali per ospitare queste persone. Ci saranno sicuramente, spero, assistenti sociali. Ci saranno delle figure professionalmente preparate per metterle in grado di integrarsi con la comunità. Noi lo speriamo. Queste sono infatti le nostre richieste. Chi sarà a gestire queste persone? Diciamo, io non conosco, so che ci sono dei privati. Perché non dare in mano alle strutture pubbliche queste competenze? Perché noi dobbiamo dare sempre, affidare a privati che l'unico loro interesse è quello di fare soldi, di lucrare su queste cose. Quindi penso che loro cercheranno di tenere più tempo possibile questi immigrati solo per una questione economica. A noi non ci sta bene questa cosa.